Il difensore Manuel Marzupio è stato l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Foggia Calcio. L'annuncio risale allo scorso 11 agosto. In otto giorni non ci sono stati altri squili di mercato, ma è chiaro che fino al 31 qualche altro annuncio ci sarà. Ci si aspetta per esempio quello del centrocampista classe 2001 Mattia Fiorini, ex capitano della Primavera della Fiorentina, club con il quale ha vinto per tre volte la Coppa Italia. Un innesto di belle speranze, soprattutto considerando la giovane età. La formula dovrebbe essere prestito secco. Fiorini si andrebbe a unire agli altri neoacquisti dei satanelli, Rossi, Marino, Martini, Cucchietti e Marzupio. Per incastrare i tasselli di acquisto bisogna anche sistemare i calciatori in esubero, vale a dire Nobile, Oger, Vacca e Vutai, quest'ultimo corteggiato dalla Fidelisandria. Come noto tra dieci giorni, il Consiglio di Stato dirà la sua sulla decisione del Tar del Lazio di riammettere l'eco in Serie B. Alla finestra non c'è solo il club rosso-nero, ma anche la provincia. Ad annunciarlo è stato il presidente Giuseppe Nobiletti con un comunicato stampa nel quale si sottolinea che la provincia condivide i presupposti sportivi e legali per affiancare il club in una vicenda di dubbio fair play sportivo che ne ha mortificato le aspettative di ripescaggio come finalista dei play-off di Lega Pro maturate a seguito dell'esclusione dal torneo cadetto dell'eco calcio e in vista dell'inspiegabile e clamoroso ripescaggio di Perugia e Brescia. Insomma, per il calcio si può mobilitare anche un intero territorio.